Signore nostro Dio, Tu che hai donato la Tua pace agli uomini e alle donne, e hai inviato ai Tuoi discepoli e alle Tue discepole il dono dello Spirito Santo, aprendo le loro labbra con la Tua potenza, attraverso lingue di fuoco, apri anche le nostre labbra di peccatori e insegnarci come e perché cosa pregare. Amen.